Un pubblico moderno può sopportare il tradimento di un testo letterario grandissimo, insormontabile, come può essere l'amleto di William Shakespeare. Se quel tradimento è piccolo, impercettibile, gli si può concedere un fianco per divagare e renderlo godibile con una rilettura appassionata. La versione che intende tramandare il regista Nini Bruschetta con una produzione del Teatro di Messina rispecchia l'opera shakespeariana nella misura in cui la fedeltà prevede il tradimento ed è in scena da ieri fino a domani nella struttura Vittorio Emanuele. L'archetipo amleto interpretato con stile carismatico da Angelo Campolo è al contempo un uomo delineato nella sua modernità, esponente di una crisi consapevole di una caduta spirituale che gli fa scegliere di abbandonare quel paradiso terrestre in cui aveva trovato rifugio per diventare semplicemente un uomo. È una proposta audace quella di Bruschetta, già direttore artistico della prosa del lente peloritano, una versione in alcuni tratti cantata e ballata, una regia arritmata la cui drammaturgia è costruita sulla traduzione di Alessandro Serpieri. L'uomo appare nella sua complessa e imperfetta natura, senza momenti cupi e torbidi, ma personaggio vivo, vitale e attivo che si confronta con il dubbio, un passaggio perfettamente incarnato nella sua sete di conoscenze e verità. Lo spettacolo dopo aver debuttato lo scorso anno al teatro Mandanici è in tournée anche nei teatri Manzoni di Monza e Carlo Rossi di Casal Pusterlengo, nel teatro sociale di Brescia e nel teatro Menotti di Milano. A calarsi nei panni del re fantasma è Giovanni Boncoddo, Celeste Guiandolo e Ofelia, il presidente del teatro Vittorio Maurizio Puglisi interpreta il becchino. Bella catarsi di Maria Sole Manzutti, attrice regina, Gertrude un po' svampita e un po' lussuriosa, ma anche intensa al momento della verità con il figlio tradito Amleto. Scene di Mariella Bellantone, costumi Cinzia Preitano, Luci Renzo Di Chio, musiche di Toni Canto e seguite dal vivo da Toni Canto e Gianluca Scorziello, a sottolineare la temporalità dei temi messi in campo, i costumi della Preitano che si caratterizzano per la cura dei dettagli e l'essenzialità delle silhouette, ad enfatizzare movimenti ed intenzioni dei personaggi nello spazio scenico immaginato proprio la Bellantone.